Ehi! Ehi! Ma dov'è? Ehi! 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 Sto picconando! Sto picconando! Ciao Fudo! Buon anno! C'è questa? Ehi che sto entrando! Sto entrando qua! E' un portale! Ma quello non è un portale, è un video! Ehi si è un portale! Non è un portale! Ma che cazzo? Un portale! Stiratevi! Un portale! Prima fine! Come sono venuti a vedere Mau? Ma dove state voi ragazzi? Mau stanno lì in mezzo! Ciao! Io sono davanti a sfede! Ehi un modo! Ehi un modo! Ehi un modo! Ehi un modo! Raga ma si può entrare? Non è che è schiacciato! Sta entrando! Sta venendo qua! Sta venendo! Ragazzi! Ma è un modo! E' un modo! Oh! 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 Grazie a tutti. 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 Ciao, 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 ma perché D'Arturo vedo la skin di Nabbo? No, perché è il tuo padre. Io vedo la skin di Nabbo, io vedo la mia skin e me vedo... A me sì, io... No, io... 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 Io dei sideri che ne ho male. Ma perché sono... Sono flash? Ciao, Fede. Ragazzi, siamo flash. Non so che la sonne... Ma dov'è la credit? L'ho perso. Ma dove sei da voi? Ragazzi, 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 io non lo vedo più. Ciao, Fede. Io devo... La palla, ragazzi. La palla. Ragazzi, la mappa sta andando a fuoco. Ragazzi, io sto andando contro la palla. Non ce l'ho capire, ragazzi. Su con i light, ragazzi. Su con i light. No, ragazzi, ora fa qualcosa sicuro. C'è impossibile che sto pezzo non fa niente. Ma, oh, ma guardate, che figata è. Ragazzi, ma si può salire sui tubi? Ma pensali sì. No, non ti può salire, Danny. Eh, lo so, notate. Dov'è la palla? Ah, eccola. Danny, se mi vedi? Ma che figata è. No, 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 no. Ragazzi, non me ne conosco due 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 due. Quattro' va andato qui? Ah! Mi ha schiitato in giù sotto! What? What? What, raga? Ma che what? Ma che cazzo! Ah, fico! Che fico! ma che figata è no ragazzi non ci possiamo muovere ma che cazzo sei in mente ragazzi 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 ma voi mi sentite ragazzi in zombie ma dove cazzo state voi ragazzi ragazzi ma solo a me si è bloccato il gioco e non mi posso muovere no denis si è crushato ragazzi si sotto eh denis mi sa che è crushato allora no no raga ho 40 cioè non è che non mi fa muovere è che ah no nella sua testa ma che cazzo no figlio è sputtato se sono lasciato il tuo bellissimo raga ma non lo fanno oh io so quello che è ah ma dai che la folla non si può raggiungere che cazzo ma che cazzo è questa cosa aiuto aiuto ma che cazzo ma è una figata è una figata ah 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 che cazzo è una figata TV è una figata ma che te è un bologhap che cazzo è una cazzo ma che cazzo Oh no! Raga è solo io lo schermo nero No, anch'io, anch'io No, tutti abbiamo lo schermo nero Che insieme Ma che cazzo è? No ma che... ma è snaggata Lo spazio Siete, no, mi sento che ci sono 10 Mi chissi, mi chissi Sì, sì Questo qua sembra Ma la mappa non è cambiata Ma la mappa non cambia Ho appena visto passare Fedor davanti a me Eccolo Ehm, chiamati 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 Ciao, chiamati Ma vero, ragazzi, è una figata L'evento più bello di Fortnite Ehm, chiamati Ehm, chiamati Ehm, chiamati Raga, vedo la palla Anch'io vedo una palla Ah, tu mi ricordo Sì, arriva Ciao C'è una palla per la palla Ehm, chiamati Ehm, chiamati Anche io, raga Non posso andare più avanti così Ehm, chiamati Sì, pure io Sì, pure io Dove dovete, ragazzi? Stanno andando, ragazzi Ehm, chiamati Ehm, chiamati Ehm, chiamati What the f*** Quattordici staccatori Grandi, ragazzi No, ragazzi Ragazzi, poi domani uscirà anche il video dalla venta Ragazzi, non so che non vi vedo nella venta Ragazzi, non si vede la testa Ma il mattino uscirà pure il video dalla venta No, ragazzi No, ragazzi No, ragazzi Ehm, ragazzi Ehm, ragazzi Ma, ragazzi Ma che c***a Ma, che c***a Ama che c***a And Ahora Ma che c***a Ehm, tops RJ Sa come dosi смотрите Maatto Ma che c***o Ma che c***o Ma che c****o C'è l'ultima parte No bellissimo, è stato una f***a di evento Sì ragazzi, guardate la safe quanto è veloce Sì sì le armi c'erano Ciao ciao Vabbò raga Ma tra 50 secondi si può abbandonare Raga la mappa non ha cambiato niente Ma che doveva cambiare, non doveva cambiare niente Ma che doveva cambiare, non doveva cambiare niente Poi se lo cambiano l'office, tutti i cucini